Salve a tutti ragazzi e bentornati su Twin Mirror, oggi andremo avanti con questa splendida avventura grafica e secondo quello che abbiamo da fare dobbiamo controllare se Dennis è al Basswood Jungle che hanno la più vaga idea di dove sia. Iniziamo a muoverci. Vabbè 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 diventa qua, vero e bianco! lo cavolo sta sto jungle questo è il motel se qui c'è qualcuno che mi sa dire qualcosa e manco posso passare l'armotello ma l'altro non c'è nessuno è chiuso dove sta sto jungle questa è la farmacia ma sto jungle dove sta se è sempre questo non c'è niente intanto mi dirà che non me ne possa andare ma dove sta sto jungle c'è una funzione tipo mappa c'è sempre le persone vabbè gli ho raccontato da tennis e basta statistiche ho detto la verità donna quando mi ha chiesto di tennis 89% 12% 87% si vabbè non c'è nessuno ma Non dobbiamo far niente Allora dobbiamo cercare di capire Stasso Jungle Magari Cipponippo sotto sta Arriva Cipponippo Arrivo Ok parla con Walter Samuel Samuel, mio figlio Are you still haunting this pallid town? Walter, you haven't seen Dennis today, have you? Can't say I have I hear you got into quite a tussle Quite the tussle Nothing other than that? You should try the Basswood Jungle Office I've known him to go in on Sundays He may be a prickly pear A very prickly pear But he's dedicated If he says something will be done Monday Come the devil or come the rain It is I'll keep that in mind Thanks You know I'm glad I ran into you If I may bend your ear for a moment I've been thinking lately about age Life The turn of the clock I'm sure you're right But when do you think it's time to hang up the saddle? Che sei stufo di fare il re True cowboy rides Until the last day they can ride I had a feeling you'd say that I have a lot to think about Thank you for your ear But soon I must have sconed Sunday lunch with mother is sacred Call on me anytime young Samuel Anytime Eh si ok ma Dove sta la redazione del giornale Non qui Non penso sia qui la redazione del giornale Quindi me ne fai andà E che è qua invece At least the basswood jungle is still standing Io pensavo fosse una chiesa raga Invece no il giornale Stavamo trovato va Locked I should check the back E poi le devo pure entrare dal retro My 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 Look what we got here Oh my god I'm going to get back in a newspaper game I thought you got the message last night Of course it was hard to tell Considering you let Declan do your talking for you Look fellas You know basswood can be a dangerous place Well so maybe consider just getting Before something bad happened to you Restarò quanto mi pare I'll leave when I'm good and ready Just make it sooner rather than later De-de-declan's right down the street Watch yourself while you're in basswood Cause we'll be watching you Dai le quanto me amano Che simpaticoni Vabbè però sono sollevati da mezzo Quindi me potremmo andare sul retro E vedete trovare quest'altro va E poi vediamo che succede Certo i minatori che ci vanno ammazzati Quello che ci gonfia Quello che ci vuole bene Il vecchio capo giornalista E forse è Anna dopo che ci ho detto No Povero posto di matrimonio Se la faceva col morto Che situazioni ingarbugliate Vabbè Ora siamo al best for jungle It's been a while This place used to be my home Or at least felt like it Paccaman la sua parete Where is Dennis? He should be in here Dammi un'occhiata in giro Ma ci sarà qualcosa di interessante Qui Qui Nemmeno Cadavere di Dennis? Cadavere di Dennis E se torno del palazzo della memoria Vecca vista Ma ammazzato a mor Pavoro Dennis Quindi Mi ha trovato mezzo morto Non è stato di mortaiuto Sta cosa Devo cercare poi risolvere l'enigma Io non voglio uccidere nessuno Ma che complicata sta parte Uccidici Io non voglio uccidere nessuno Eccoci Entradi Ma tu ti uccidi qui Non è così facile Non è così facile Meno male che ce l'ho quasi 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 È Dennis' office C'è Dennis' office Meno male che ci sono 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 Meno male che ce l'ho quasi Ma che faccio il fuor d'uscita il proiettile deve essere da questa parte sangue punto di impatto del proiettile devo trovare la pistola ti pare facile la fondina il proiettile è usato aveva la pistola earlier dove si è arrivato? il proiettile usò la pistola ma non avevo la pistola e come ho avuto il sangue? un sangue di sangue si è arrivato qualcuno o qualcosa si è arrivato io? un proiettile di sangue si è arrivato qualcuno o qualcosa si è arrivato mi? il sangue è stato disturbato da cosa? ho fatto tempo a finire la concentrazione quindi Sam stop it come back to reality but I I you didn't do anything Dennis was already dead when you arrived can't you see? Dennis was shot and you don't even own a gun how could you have done it? all you did was move his body which is how your shirt got stained think about it Sam calm down and think non siamo stati noi quindi you're right I can see it I have the complete picture now vedo te che il cerco troppo completo non è entrato io ho preso la pistola io ho sparato e poi siamo arrivati noi oh dobbiamo direi che potrebbe essere stato pure il polizio tu lì dà la pistola quindi è plausibile però non è potuto fare niente perché semmo arriva di noi l'abbiamo trovato sul pavimento brutta immagine il blood on the shirt was Dennis's but I didn't kill him I found him dead blackout drunk panicked I stumbled in my car luckily I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole now I know I didn't do it the police though may not feel the same way I need to search the area see if I can find out why someone would murder Dennis I mean almost a shame I need to find out why Dennis was killed it may have something to do with Nick Dennis's computer is still signed it seems like a good place to start Vabbè, tocca risolvere l'amiceo di Dennis, questo è Cipoli, il po' che c'è vale morto, questo è il buon cavolo che vuole andare in pensione, e questo è Dennis che ha il mercato. Perfetto. Eh, bozza, vediamo a che stavo lavorando. Stasera tornare, devo spiegare a un imbecile come funziona il mondo, non posso prendere a tirare colazione domani, ma se ci sono dei waffle nel frego, forse anche non ho finito di scrivere. Ok. C'è niente. Questa è in arrivo, è pronto. E-mail urgente. E-mails tra Nick e Dee. Stanno parlando in codi, niente scritto chiaramente. Non vogliono rispondere a nessuno di sapere dei loro metri. Smart, qualcuno era guardato. bambino. E-mail urgente. Tatti, sarete rifatti così. Poi parlare, io ti ascolto, possiamo vederci domani com'è previsto. Tutto qui. E l'altra curiosità. Alla cosa che Nic lo ha cercato sembra ma è che non mi乞e solo Guarda, ho visto che mi sono scoperto e vorrei lasciare che dormi per me questa sera e toghe sia dal battle in cielo e spero che andriva alla prossima volta Ora che ti hai fatto un bel bello, sei quando mi hai fatto un salario e ho toghi una volta di grado sul dietro e non mi sono scoperto Perciò mi parla di vedere l'attuazione domani Il puzzle riuscita con l'idea Dennis tarko tutti i email ...he found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter... ...and that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office... ...and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. There's a lot of junk in here, but none of it is useful to me. Okay, now I'm going to have to go on. ... State with the This is where I am. But the location is moving. Pa... ...this is the find of Walter's. One screen character. C'è anche più tardi in volta. E... inserisce la password. Noi ne la sappiamo. Coggerimento per la password. E... muovai il cane? Ah... Il mio cuore. Il può significare una persona, ma anche un posto. Ah... Il mio cuore. Il può significare una persona, ma anche un posto. Il Walter non è mai tecnico-savvio. Ha solo usato le parole che significano qualcosa per lui. C'è una buona possibilità che c'è una scelta in l'office. Cosa mi chiedeva la scrivania di Walter? Buono per Walter che Judith si sta bene. Ha detto il mondo per lui. Ma così tanto che potrebbe essere il suo password. Ah... Uuuuh... Se vede a fare una segnalare la mia Judith sta recuperando la mente. Judith! Potrebbe essere Judith! Non è tutto, ho dovuto continuare a guardare. Non è giudith. Walter ha avuto questo articolo scritto dopo aver visto il boost in traffico che l'haven ha avuto. Password è il suo sangue e il sole. Non mi sorprezzerà se lo diceva il suo password. Dovamo il nome della città? E' arrivato. Vediamo quali segreti hai qui, Walter. No, ma intanto nella vostra in arrivo, non che c'ho eh. La smiccio, eh. Allora, voglio ringraziarti, però ho detto io, sei una santa. Quanto quale mi so preoccupando senza motivo. Il rapporto si c'è tra un pezzo e non chiedevi di vederne uno, non c'è niente che interessano. Quanto sai. Quanto bene? Quanto è. Quanto non si chiede. Nick would never drive without his seatbelt on And he always kept his window open The car really burned Though that's very uncommon in most crashes So Walter got the police report from Bess Nick was supposedly drunk at the wheel Which doesn't sound like him And his seatbelt was off and his windows up Which both sound very wrong Walter seemed to buy it but I don't know if I do I think it's time I checked Nick's office Now we're going to the office of Nick Let's go to the office of Nick Walter always treated us like family I'm going to go to the office of Nick And then I'm going to go to the office of Nick Questa è la roba da ciascadavere, mi vuole la scrivania di Nick, questo è l'assetti di Nick e il mobiletto di Nick, perfetto, la gaga di Nick, esamina la roba. 23 e 41, non dimenticare, ricordati. Questa è? Questa è? Questa è la cosa sulla bacheca qui? I 340. E' un buon piacere, ma non è il giusto Devo continuare a guardare Il mio biletto non mi fa cercare niente, però Allora, vediamo l'antica Esamina Portateli a scomparso L'uomo è morto Il computer è morto L'uomo 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 è morto Una punta Che no? È vero Nic'e sempre più fan di una birra Che lavorare tardi Non fidare Non fidare Devo soltare a te, Anna ok lui ecco ma fa cura va direi che qui non c'è niente tra passecce non ci sarebbe mai tenuto niente ho capito non è una postetta è questo 2341 non è una postetta 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 ma è una postetta Se avessi il codice, potrei entrare in qui. Cazzo, proviamo al contrario. Non c'era qualcosa di tipo 10.000 combinazioni, credo che ci saranno. Devo continuare a cercare. Perchetto di Anna, non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. E niente, qui restiamo sulla scrivania, per portare a dire che manca. non cambia, e niente però, c'è la bacheca da esaminare, non cambia niente, vabbè ragazzi io direi che allora a questo punto per questo episodio ci fermiamo qui, anche perché devo un attimo riordinare le idee, perché che cavolo fa, perché non mi sembra ci siano indizi visibili, quindi magari mentre faccio il montaggio del video e lo riguardo, mi verrà qualche intenzione, io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non si iscritti, di cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sui prossimi video, lasciare un like se il video vi è piaciuto o un dislike se il video non vi è piaciuto, poi tutto quello che volete dirmi, i commenti, i cosi, insomma quello che vi viene in mente potete lasciarmelo nei commenti, vi ricordo che in descrizione trovate anche i link per seguirmi sul gruppo facebook a cui potete iscrivervi in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che porterò sul canale e i link sui per instagram, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio